Benvenuti in questo nuovo appuntamento di review in diretta, grazie per esservi collegati, siamo felici di essere insieme a voi in questo giorno in diretta proprio per continuare ad essere toccati, benedetti e raggiunti dalla parola di Dio alle nostre vite. Dombe, il benvenuto a tutti quelli che ci seguono regolarmente, da lunedì al venerdì alle ore 12 siamo in diretta con voi e in questo giorno, in questo lunedì di fine ottobre, precisamente il 28 ottobre, sono le ore 12 e 2 minuti e do il benvenuto e ringrazio a quanti ci stavano aspettando, mettetevi comodi, sarà un tempo che passeremo insieme alla presenza del Signore, avremo anche alcuni aggiornamenti legati proprio ad un'iniziativa e anche ad un'accoglienza particolare che una chiesa nella provincia di Napoli ha fornito ad una famiglia che si è trovata ad affrontare una difficoltà particolare. Ricorderemo qualche mese fa tra le vele di Scampia e un crollo ha portato un disastro, una tragedia in una famiglia, raccolte le persone ferite da questa situazione anche aspettando e seguendole nella tragedia che hanno vissuto i nostri fratelli della chiesa, Dio è vivente, li hanno accolti e oggi ci porteranno alcuni aggiornamenti proprio su questa famiglia ma non solo, il pastore Nino Luccarelli già in collegamento con noi ci proprio aggiornerà su quanto il Signore sta facendo in questa realtà, diremmo in un certo senso nascente da poco tempo. Noi ringraziamo il Signore perché questo spazio in diretta delle ore 12 è uno spazio in cui presentiamo la voce del Signore che è all'opera, la mano di Dio che si sta muovendo e anche tu caro amico, caro amica, caro fratello, cara sorella, pastore, leader che ci stai ascoltando e magari voi perché no presentare anche l'opera che Dio ti ha affidato noi siamo ben felici di essere la testimonianza, il megafono per poter dire a tutto il resto della Chiesa italiana quello che il Signore sta facendo proprio perché no, magari attraverso il tuo operato, la tua disponibilità quindi puoi iscriverci al 379 2710854, noi siamo ben felici di entrare in connessione con te. Ringraziamo il Signore per quanto ci concede in questo tempo, non è mai scontato il tempo alla presenza del Signore e prima di iniziare vorrei proprio insieme a te ringraziare Dio per quello che ci sta per concedere Signore grazie per quanto stai preparando al nostro cuore, vuoi tu raggiungere i nostri amici che in questo momento si stanno preparando all'ascolto della tua parola ma ti chiediamo Signore con tutto il cuore anche di benedire e di condurre ogni cosa benedici il pastore Nino e benedici tutti noi che ascolteremo grazie per quello che farai e ci darei ancora in quest'oggi nel nome di Gesù, amén, gloria a Dio Bene, non ci resta che andare avanti e in questo spazio, come sempre facciamo prendiamo un buon e salutare Caffè Biblico Buongiorno, per il Caffè Biblico di oggi vorrei che riflettessimo insieme sul senso di responsabilità Ci può aiutare molto leggere la parola di Dio, la Bibbia, che funge spesso come una specie di specchio per noi per vedere la bellezza della nostra creazione ma anche per vedere la bruttezza del nostro peccare quindi senza sconti nell'uno o nell'altro caso La Bibbia ebraica è scritta in modo consonantico, ci spiegano i teologi e i commentatori In sostanza le parole mancano delle vocali, così come è scritta nell'originale È il lettore che leggendola deve capire il contesto e inserire le vocali giuste Per gente come noi già questo a me confonde, è troppa roba, no? Io non sono abituato, nella nostra lingua c'è già scritto tutto Tuttavia è così nell'ebraico originale della Bibbia dove per esempio una parola scritta Deber, come questa, insomma Deber può avere due significati diversi Dabar, quindi parola o Deber, quindi peste Parola o peste, è il contesto che aiuta il lettore a scegliere tra l'una o l'altra Ma mi piace, mi piace pensare che sia sempre e comunque il lettore ad avere questa grossa responsabilità di fronte a Dio di capire il contesto in cui è inserito di capire il contesto in cui sta vivendo e scegliere nella direzione giusta Quale fantastico esempio di responsabilità ci lascia il Vecchio Testamento, le Sacre Scritture E mi piace, le stesse Sacre Scritture nel Vecchio Testamento dicono Morte e vita sono in potere della lingua Dice in Proverbi al capitolo 18 al versetto 21 Ogni dono che riceviamo, ogni scelta che facciamo Può essere usato, può produrre il bene o il male Persino la lingua ci dice lo scrittore, no? Prendiamo la cosiddetta cena del Signore Quella che nelle nostre chiese facciamo è l'effetto che essa ha nella nostra vita Che dipende tantissimo dall'attitudine, dall'approccio con cui ci avviciniamo a questo momento importante Paolo lo spiega cento volte meglio di come lo potrei fare io, ovviamente E lo fa nella lettera ai Corinzi che spesso leggiamo in questo momento importante per la Chiesa E al versetto 29 del capitolo 11 della prima lettera di Corinzi dice Wow! Parole importanti! Con la cena del Signore in sostanza si mangia un pezzetto di pane e si beve un po' di vino Cioè questa è la sostanza, ma da essa si può uscire probabilmente esattamente come prima O si può uscire migliori o peggiori Sta a noi, sta a noi approcciarci a questo momento con la giusta attitudine C'è una forte assunzione di responsabilità nella cena del Signore Come in tantissimi eventi all'interno della Chiesa, ma fuori nella nostra vita è uguale E credo che il Signore ci chieda proprio questo Certo c'è chi vorrebbe, no? Diciamo scaricare le responsabilità sempre e comunque su qualcun altro Su leader di Chiesa, su leader politici, su leader economici, sul governo, su chiunque altro Purché non sia io, lavandomene sostanzialmente le mani su ogni cosa come fece Pilato Ma a proposito di lavarsene le mani, la verità biblica più potente e anche quella più semplice Ha proprio a che vedere col nostro assumerci le responsabilità davanti agli uomini e davanti a Dio Pensiamo alla venuta del nostro Signore Gesù Di fronte alla venuta di Gesù, si può vivere con Lui o si può ucciderlo? Questo ha fatto l'umanità E questo continua a fare Io scelgo di vivere con Lui Sì, io scelgo di vivere con Lui per sempre Di assumermi la responsabilità della mia vita per ogni decisione che prendo Davanti a Lui e davanti agli uomini, davanti agli altri L'Eterno vi favorisca davvero, anche in questa giornata Ringraziamo il Caffè Biblico, grazie a Cristian e siamo felici di tornare in studio con voi In questo tempo in cui avremo l'opportunità di approfondire una meditazione dal nome Chiudi la porta A meditare questo tema e ad approfondire tutti gli aggiornamenti che ci sono intorno all'attività della Chiesa Dio è Vivente E il nostro carissimo ospite che già vi ho anticipato in apertura E lo abbiamo in collegamento con noi, il pastore Nino Lucarelli Eccolo qui, pace e buongiorno Pace, Dio vi benedica, Dio benedica anche tutti coloro che ci stanno seguendo Anche questo giorno per me è un onore Essere qui questa mattina e condividere insieme a tanti Quello che per tutti noi è pane consacrato Come ascoltavamo ieri dalla predicazione Alleluia, amè, amè, gloria a Dio Pastore Nino se ci puoi aggiornare su come stanno l'ultima volta che ci siamo visti Ho provato a dare qualche notizia Ma chiederei a te di darci con maggiore precisione un po' di aggiornamenti Legati appunto alle vostre attività di vicinanza Alle famiglie colpite dalla tragedia a Scampia Prego Certo Sì, come ricordavi tu Questa famiglia coinvolta nella vela celeste Che Dio ci ha dato grazia di prendercene cura Ricordiamo di quanto il Signore Su questa famiglia ha mostrato anche il suo favore La sua grazia Perché immaginate tutta la famiglia coinvolta Bambini piccoli, marito, la moglie Tutti quanti andati giù quel giorno Il Signore veramente ha fatto un miracolo perché non c'era speranza sia per i bambini coinvolti Avendo subito tanti interventi E anche per il marito Beh, il Signore come ricordavi quella volta ci ha mostrato il suo favore Questa famiglia è stata qui E poi dopo quel giorno che abbiamo testimoniato di questo ed è stata qui la famiglia Come anticipavo a te, caro Michele, è successo che il marito si è trovato a rivivere una dura prova sul suo corpo In quanto non è riuscito a superare un tempo Diciamo che lo faceva sperare per il problema avuto a una gamba E questo nei giorni scorsi ha fatto sì che purtroppo gli hanno dovuto amputare una gamba Però è accaduto proprio ieri nel servizio di culto che avevamo Che la mattina io e mia moglie abbiamo saputo che c'era questo accorato grido da parte del marito Di poter essere alla presenza di Dio a ringraziare il Signore Per qualcuno di noi potrebbe essere quasi una contraddizione Perché la tragedia, i figli coinvolti Una situazione a dir poco, credetemi, tragica Anche perché tutti noi siamo coinvolti quando le cose accadono Poi c'è il dopo che è quello più complicato Dove queste persone hanno bisogno di sostegno e di aiuto E davanti all'accorato grido del marito Non abbiamo potuto fare altro se non quello di predisporci umilmente E Dio benedica quei fratelli che ieri con tanto amore si sono predisposti a portarlo qui in chiesa E quando lo abbiamo visto qui piangere alla presenza di Dio insieme a sua moglie e suoi figli Non potevamo aspettarci cosa più bella, momento più glorioso Di una famiglia che nonostante tutto ciò riconosce in Dio il favore La grazia di avergli ridonato la vita Era quasi inaspettato anche di come quest'uomo Giuseppe sta affrontando questo momento Io so che sicuramente lui ci sta seguendo Che Dio lo benedica profondamente E continuo a dirgli che la sua vita e la sua famiglia sono nelle mani del Signore Deve avere piena fiducia perché il Signore ama Ama la sua famiglia, ama la sua casa, ama la sua stessa vita E si prenderà cura ancora nei prossimi giorni, negli anni a venire della sua casa e dei suoi figli Noi, umilmente, riconoscendo anche i nostri limiti, perché no? Ma vogliamo predisporci per questa famiglia Perché vogliamo vedere l'opera di Dio realizzarsi nella loro casa E come dicevi tu, opera nascente, vero? Ormai mancano pochi giorni che quest'opera Compierà i suoi due anni Da quando ha avuto inizio E noi diamo gloria a Dio Io e mia moglie Il Signore ci ha chiamati a questo arduo compito Perché lo riconosciamo che è un compito arduo Ma sono grato a Dio anche per la vita di mia moglie Perché, Michele, tu sai come sanno tanti che magari mi stanno seguendo Che quando Dio ci affida qualcosa come quello che stiamo vivendo noi qui a Melito Di una benedizione gloriosa Di tante famiglie Meravigliose, con bambini, giovani, adolescenti C'è bisogno veramente di donne che sanno sostenere i propri mariti Io ringrazio Dio Approfitto anche di questo momento Perché no, per farlo Per la donna meravigliosa Che ha messo al mio fianco Che è un sostegno nei miei giorni E nel servizio a Dio Che rendiamo ogni giorno Stiamo vedendo la gloria di Dio Veramente lo posso testimoniare a gran voce Dio è fedele Stiamo vedendo vite di giovani trasformate Vediamo l'opera di Dio ogni giorno che ci sostiene Che ci avvolge Non molti giorni fa, una settimana fa Abbiamo visto battesime nello Spirito Santo Sulla vita di diversi giovani della Chiesa E questi ultimi 25 dicembre Giovani saranno a fare il patto col Signore Perché il 25 dicembre avevamo i battesimi in acqua come comunità E io sono grato a Dio Perché quando vedo i giovani accettare Gesù Quando vedo i giovani stare alla presenza di Dio È la gioia più grande Perché i giovani non sono la Chiesa del domani Ma sono la Chiesa di oggi I giovani sono pieni di energie Pieni di capacità Pieni di doni Ma sono anche molto combattuti Frustati Ci sono situazioni a volte nelle famiglie Che noi neanche immaginiamo Ma che lo Spirito di Dio Ha la capacità di tirare fuori E attraverso queste debolezze Attraverso le circostanze della vita Dio sa mostrare la sua gloria Sulla vita di questi ragazzi Che Dio ci sta facendo vedere veramente Il progresso Perché li vediamo coinvolti nell'opera di Dio Li vediamo servire il Signore Li vediamo farlo in diverse aree della Chiesa Li vediamo prendersi la responsabilità Di preparare serate per le famiglie E questo per me e mia moglie È un onore che ci è stato dato da Dio E lo vogliamo portare avanti Tra mille difficoltà Tra spine Ma consapevoli Che il favore di Dio È per noi È su di noi Ed è con noi Quali sono le maggiori sfide Che in questo momento La Chiesa Dio Vivente di Melito Sta attraversando In quale momento In quale sfida particolare Vi state trovando E soprattutto Pastore Nino In che modo possiamo pregare Per sostenervi In queste sfide Sì Le sfide che ci stiamo trovando Ad affrontare È proprio questo Questo venire Di famiglie Con i propri figli Bambini Adolescenti E giovani Che il Signore sta mandando E noi Gli diciamo grazie È questo sentire Il senso di responsabilità Di chi Non si accontenta Di vedere Lasciami passare questo termine Le sedie piene Ma quando le vede piene Inizia a sentire Un peso tremendo Nel cuore Per dire Come Signore Come devo fare Dacci la forza Per curare queste famiglie Fai uscire talenti In mezzo al tuo popolo La preoccupazione Di trovare Di dare tutto Il necessario Con tutte le nostre forze A queste famiglie Che sono Prese da diversi bisogni Ma che non vanno lasciate sole Che vanno ascoltate Perché io credo Che questo sia uno Degli elementi fondamentali Che noi come uomini di Dio Siamo chiamati A imparare È quello Di dare del tempo Alle persone Per ascoltarli Perché solo quando Ascolterai le persone Comprenderai i loro bisogni Non molto tempo fa C'è qualche giorno fa Ci è venuta Una donna Che Con un figlio autistico E Misi qualche fratello Preposto A stare vicino A questo fanciullo Che mostrava Ovviamente Potete immaginare Diverse difficoltà Ma noi abbiamo L'amore di Dio nel cuore Verso questi ragazzi Questi bambini E lì Tu uomo di Dio Senti il peso Perché 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 sai che Il Signore sta facendo qualcosa di straordinario Ma quasi Fai fatica Perché pensi di non essere pronto A certe problematiche È bisogno di persone preparate Ma poi quando Pieghi le tue ginocchia E fai Spendi quei momenti Come faceva Davide No? Di parole brevi Prehiere brevi Ma prehiere di un cuore Che si arrende E dici Signore Io ti ringrazio Per quello che mi stai facendo vedere Ma ti chiedo Di equipaggiare la tua chiesa Di equipaggiare la mia vita Quella di mia moglie Per essere pronti Ad accogliere questo bene Che tu ci stai mandando Perché Le persone che vengono Dio ce le manda Affinché siano amate Siano curate E rispettate E la loro vita Sia curata Di quelle ferite profonde Perché molti vengono Con ferite profonde Ma Non vogliamo essere Il famoso sacerdote E le vita Che forse aveva anche Delle vesti religiose Ma Furono indifferenti Al bisogno di quell'uomo Che era lì a terra Ma vogliamo essere Quel buon samaritano Che davanti ai bisogni Si ferma Si accosta E cura le ferite Di queste persone Di queste famiglie Alleluia È una chiamata Che è già inclusa All'interno Delle nostre salvezze Nella responsabilità Dei figli di Dio C'è proprio questo E gloria a Dio Perché Riconoscerlo Mi è piaciuta L'espressione Che hai usato Non fermarci soltanto A vedere le sedie Piene In realtà Noi siamo chiamati A fare discepoli Più che discepoli Quindi discepolare Ecco persone Insegnare La parola di Dio Questo è importante Comprendere Che non può avvenire Soltanto Riempiendo Le file Dei banchi Di una chiesa Ma Prendendosi cura Anche dei bisogni Della crescita Della chiamata Delle diverse chiamate Prima facevi riferimento Ai bambini Ai ragazzi Ai giovani Che in qualche modo Si stanno disponendo Per essere d'aiuto Anche Ad altre aree Della comunità Ed è bello E anche Insomma Stimolante Direi anche Un bel esempio Scoprire che Nei giovani Tu ci stai vedendo Già Intravedendo Già Un aiuto Sostanziale Nella crescita Della comunità Ci aiuti A comprendere Come si fa A mettere Al centro Di alcuni servizi Proprio i giovani Certo Sì Perché Oggi C'è questa Effigenza Da parte nostra Che abbiamo La responsabilità Di vite Di famiglie In questo caso Di ragazzi C'è un termine Che per me È profondo Che è La parola Sensibilità Perché i giovani Ti vengono Con I loro Combattimenti Interni La loro Frustrazione Di forse Di avere Pensiero Di non Realizzarsi Mai Nella vita Perché Siamo Circondati Anche Da molte Notizie Negative Tante Volte Mi dispiace Dirlo Ma è una dura Realtà Molti Genitori Più che aiutare I loro figli Li Abbattono Perché a volte Come diceva Il fratello Nel caffè Biblico Quando citava La parola Che morte e vita Sono sulle nostre Labbra Tante volte Non ci rendiamo conto Che con una parola Possiamo dare vita A un nostro figlio Ma con un altro Lo possiamo distruggere E quando i ragazzi Hanno iniziato a venire In questo luogo È facile sempre Ma questo mi dispiace Lo dico con dispiacere Sembra che molti Hanno un occhio Di Di riflessione Ma di giudizio Perché magari Il ragazzo ti viene Ogni tanto Viene in chiesa Poi ti viene con il suo Orecchino O poi sia con il suo Modo di vedere Certe cose Ma la nostra attenzione Non deve essere Su quello Ma sforzarci Di credere A quella potenza Che viene solo Da Dio Che nel momento In cui La nostra predicazione È accompagnata Dall'esempio di vita Noi possiamo Trasferire qualcosa Di importante A questi ragazzi Io ho visto In questo luogo Con mia moglie E forse Può sembrare Quasi quelle cose Che se ne parlava Un tempo Ma io questa mattina Lo voglio dire Per la gloria di Dio Ragazzi A cui io non ho detto Mai Che cosa dovevano fare O cosa dovevano togliersi O cosa non dovevano fare Io gli ho predicato Il Vangelo Io li ho amati E c'è Credetemi C'è Dove Deve esserci Su quello che tu mi chiedevi Michele La disposizione Al sacrificio Spendere Del tempo Per loro E con loro Non possiamo Iluderci Di vedere le cose Realizzarsi In un giorno Senza fatica Ogni cosa È preceduta Dalla dedizione Dall'amore Dalla passione E dal stare vicino A questi ragazzi Farli sentire Amati E questi ragazzi Non gli ho mai Imposto niente Non gli ho mai chiesto Di cosa dovevano fare Ma ho dato A loro la parola Di Dio Il pane Ancora che viene Dal cielo Ma gli ho dato L'esempio Li abbiamo amati Li abbiamo ancora Circondati Dell'amore E ho visto ragazzi Nel tempo Venire E dirmi Pastore Io sto facendo La mia esperienza Con il Signore Ho sentito il bisogno Di togliere l'orecchino Ho sentito il bisogno Di non stare più In alcuni luoghi Con i miei amici Perché il Signore Mi sta facendo vedere La sua gloria Perché prima Non c'era pace In casa mia Ma ora il Signore Sta mettendo la pace Noi vediamo Quello che il Signore Sta facendo Da quando stiamo venendo In questo luogo E questo a me Mi rallegra il cuore Mi fa vedere La gloria di Dio Che a noi uomini Deve farci da parte Perché? Perché è il Signore Che deve glorificarsi Nella vita Delle persone E dei ragazzi E questo sta scaturendo Un'apertura di cuore Ecco che lo Spirito Santo Trova dei terreni Disponibili Aperti E lui sta riempendo Le vite E c'è questo desiderio Che come dicevo prima Sta per avvenire Di questi ragazzi Che sceglieranno Di fare un patto Col Signore Il 25 dicembre Non è Credetemi Non è emozione È potenza Di Dio Di vite cambiate Che oggi Sono ragazzi Frequenti Nella Chiesa Assidui Attenti Un gruppo Che si sta sforzando Di unirsi Perché sono diversi E la sfida è Che nella loro diversità Devono trovare La capacità Di amarsi Perché no? Capitano Quei momenti Come dire Dove ci sono Delle scorie Ma la capacità È di permettere A quella sorgente Che è Cristo Che quando ci sono Queste scorie Viene E con la potenza Di quella sorgente Che viene Trasporta via Con sé Tutto quello Che a lui Non piace Ma che purifica Che santifica E che preserva E conserva E io so Che questi giovani Per questo luogo Sono un tesoro Di Dio E prego E so Con mia moglie Che ci costerà Fatica Ma il Signore Saprà equipaggiarsi Equipaggiarci Delle forze necessarie Perché? Perché bisogna Tirare fuori Da questi ragazzi Tutto il bene Che Dio ha messo In loro Perché? Perché attraverso Di loro Dio Mostrerà La sua gloria Perché loro stessi Mi testimoniano Che nelle scuole Parlano i loro amici Dell'amore di Dio Nelle scuole Testimoniano Dell'amore di Dio Di quello che il Signore Sta facendo in loro E portano Qualche volta Anche amici Alle riunioni Perché noi Puntualmente Ogni venerdì Alle 19.30 Approfitto anche Per farlo sapere Questo luogo In via San Vito 35 Melico È aperto A qualsiasi Giovane Non sono chiesti Ancora Non sono chiesti Requisiti speciali Vieni come sei Vieni come vuoi Perché sarai accolto Da una famiglia Straordinaria Che avrà un solo scopo Di annunciarti Dell'amore di Dio Che il Signore Può mettere pace Nella tua casa Perché molte volte I giovani Non li facciamo parlare Li vogliamo solo Martellare Li vogliamo solo Dare delle sentenze Tu non sei buono Tu non servi a nulla Cosa molto grave Ma anzi I giovani hanno bisogno Di essere considerati Ascoltati Perché tante volte Nel loro cuore C'è il lutto C'è la tristezza C'è il senso Di insoddisfazione C'è il senso Di irrealizzazione Nella vita Perché? Perché sono bombardati Da un mondo Che non esiste Un mondo bugiardo Che il diavolo Sta cercando Di insinuare Nella loro vita Ma la Chiesa di Cristo È chiamata A smontare I piani del diavolo E a costruire Vite nuove Nel nome di Gesù Cristo Il figlio di Dio Amen Amen Alleluia È bello scoprire Che la Chiesa È aperta ai giovani Hai dato una buona dimostrazione Con quanto ci hai raccontato Che è veramente È aperta ai giovani A volte Si ha un po' La considerazione Partendo dal presupposto Che la Chiesa L'ho automaticamente citata Come se fosse il locale Aperto ai giovani Ma mi riferisco Ancora maggiormente Di più All'essenza vera Della Chiesa Ovvero alle persone Che compongono la Chiesa Essere aperti ai giovani Questo è un buon esempio Io ti ringrazio Pastore Nino Di aver testimoniato Che nella pratica Va affrontato così La considerazione Che bisogna avere Dei ragazzi Dei nostri figli A volte anche Dei figli Che Dio ci affida Tante volte Siamo genitori Naturali Ma siamo anche Genitori spirituali Questo ha un ruolo Molto importante Specialmente Per chi Dio individua Essere Delle guide All'interno Proprio Delle nostre Chiese Grazie Per questa testimonianza Vorrei chiederti Di condividerci A questo punto Della nostra trasmissione Di condividerci Quanto il Signore Ha messo sul tuo cuore Oggi Parlerai Ci parlerai Di una meditazione Di una meditazione Che hai titolata Chiudi la porta E vorremmo proprio Ascoltare E sentire Da parte del Signore E dopo ritornare Perché no In fase magari Anche di saluto Dare Le indicazioni precise Ridare le indicazioni precise Della Chiesa Ma intanto Vogliamo soffermarci Su quanto il Signore Ha dato al tuo cuore Prego Ti passo la linea Amene Grazie Allora Il testo che Questa mattina Il Signore Ha messo nel mio cuore Come tu precisavi Lo troviamo Nel Vangelo di Marco Al capitolo 5 Dal verso 21 Ripeto Vangelo di Marco Capitolo 5 Verso 21 Il cui titolo Attribuito a questo testo È La donna dal flusso di sangue È la figlia di Jairo Amen Vogliamo leggere insieme Il Dio è lodato E quando Gesù Passò nuovamente All'altra riva In barca Una grande folla Si rotunò Intorno a lui Ed egli se ne stava In riva al mare Ed ecco venne Uno dei capi Della sinagoga Di nome Jairo E vedutolo Gli si gettò ai piedi E lo pregò Con molta insistenza Dicendo La mia figliola È agli estremi Vieni a imporle le mani Affinché sia salva E viva Ed egli se ne andò con lui E una grande folla lo seguiva E gli stringeva intorno Ora una donna Che aveva un flusso di sangue Già da 12 anni E aveva molto sofferto Da parte di molti medici Spendendo tutti i suoi averi Senza alcun giovamento Anzi Piuttosto Peggiorando Avendo sentito parlare di Gesù Venne tra la folla Alle sue spalle E toccò il suo vestito Poiché diceva Se solo tocco le sue vesti Sarò salva E immediatamente Il flusso del suo sangue Si stagnò O si fermò Ed ella sentì Nel suo corpo Di essere guarita Da quel male E subito Gesù avvertendo in sé In sé stesso Che una potenza Era uscita da lui Voltatosi nella folla Disse Chi mi ha toccato i vestiti E i suoi discepoli Gli dissero Tu vedi come la folla Ti stringe da ogni parte E dici Chi mi ha toccato Ma egli guardava intorno Per vedere Qual è che aveva fatto ciò Allora la donna Paurosa e tremante Sapendo quanto era avvenuto In lei Venne Gli si gettò ai piedi E gli disse Tutta la verità Ma egli le disse Figliola La tua fede Ti ha salvata Vai in pace E si guarita Dal tuo male Mentre Gli stava ancora Parlando Vennero alcuni Della casa Del capo Della sinagoga Dicendo La tua figlia È morta Perché Importuni ancora Il maestro Ma subito Gesù Dito ciò Che si diceva Disse al capo Della sinagoga Non temere Credi solamente E non permise Che alcuno Lo seguisse All'info Di Pietro Giovanni E Giacomo Fratello Di Giacomo E giunto A casa Del capo Della sinagoga Vide un gran Trabusto E gente Che piangeva E urlava Forte Ed entrato Disse loro Perché fate Tanto chiasso E piangete La fanciulla Non è morta Ma dorme E quelli Che lo deridevano Ma egli Messili Tutti fuori Prese con sé Il padre E la madre Della fanciulla E coloro Che erano Con lui Ed entrò Laddove Giaceva La fanciulla E prese La fanciulla Per mano E le disse Talita Cumi Che tradotto Vuol dire Fanciulla Ti dico Alzati E subito La fanciulla Si alzò E si mise A camminare E l'aveva Infatti Dodici anni Ed essi furono Presi Da gran Stupore Amen Fin qui La parola Meditata Il testo Di questa mattina Bene Inizio subito Con dire una cosa Ho scelto Tra i Vangeli Perché Questo testo Citato Nel Vangelo di Marco Come abbiamo detto noi Nel Vangelo di Matteo E in quello di Luca Ho scelto quello di Marco Perché tra i Vangeli È quello che Si sofferma in qualche modo Con maggior dettaglio Su quello che è accaduto E noi chiamiamo La parola di Dio Siamo quelli che dobbiamo Anche innamorarci Dei dettagli Che aprono Alla nostra vita Alla nostra mente Delle considerazioni Importanti Che poi Risultano Insegnamento Per tutti noi Ci troviamo In un momento In cui dove Gesù Poco prima Aveva liberato La vita di un indemoniato E la Bibbia ci dice Come in altre occasioni Spesse volte abbiamo Ascoltato Che Gesù Passò all'altra riva In barca Come suo solito fare E una grande folla Si rodinò Intorno a lui Mentre egli Se ne stava In riva al mare Ma Ecco A un certo punto Andare verso il Signore Uno dei capi Della sinagoga Di nome Iaero Che appena Lo vide Ora Vi faccio subito Soffermare Sull'atteggiamento Di quest'uomo Capo Della sinagoga Un uomo Che era andato Da Gesù Con un atteggiamento Di umiltà Di riconoscenza Verso il figlio Di Dio E non si era Non era Non si era posto Ponendosi Degli interrogatori Magari Risaltando il senso Di ingiustizia Perché Dovrebbe capitare Proprio a me A una figlia Di 12 anni No La cosa che lui fa È che quando arriva Da Gesù Lui si getta I suoi piedi Perché questo è L'atteggiamento Che deve avere Chiunque si accosta A Dio Perché La Bibbia dice Che chi si accosta A Dio Deve credere Che egli è il ricompensatore Di coloro Che lo cercano È inutile chiedersi Perché stiamo vivendo Quel momento Ma è fondamentale Concentrarsi Su colui Che può essere La soluzione Al nostro problema Lui con umiltà Si gettò ai piedi Del Signore Pregandolo con intistenza Facendo sapere a Gesù Che la sua figlia Era agli estremi Ma dice Vieni a imporghi le mani Affinché sia salva E viva Ecco Uno degli elementi Perché vi dicevo Ho scelto Marco È perché lui Mi piace Quando dice Affinché Sia salva E viva Due parole Che rappresentano Due significati diversi Perché Questo ci fa capire Qualcosa di fondamentale Che la vita vera Non è come tante volte Molti La intendono La intendiamo La vita vera È quella che ci Trasferisce la parola È quella La vita di Dio Quella che il Signore Ci ha dato per mezzo Di suo figlio Perché? Perché quest'uomo In realtà È come se gli stesse dicendo A me interessa Che mia figlia Si continui a vivere Ma che viva Ma che viva da salva Perché è vero che Su questo terrestre albergo Magari nel confrontarci Come esseri umani Possiamo dire Ma tutti abbiamo la vita Tutti hanno i loro giorni Perché il Signore Ha donato la vita E non se la riprende Ma attenzione La vera vita Non è quella Come molti la intendono Su questa terra La vera vita È quella vissuta Nella salvezza di Dio È la salvezza di Dio Quella che ci presenta La Palora È una salvezza Intesa come di una vita Cambiata Che è piena Dell'amore di Dio È piena di soluzioni In Dio Che vissuta su questa terra È una vita Vissuta in maniera diversa Perché è vissuta Nella pace Nella gioia Nella confidenza In Dio Ecco perché quest'uomo Dice io voglio Che sia salva E viva E questo a me Mi ha fatto riflettere E innamorare Di questa preghiera Signore Questa mattina Tu forse puoi Stai pregando Per un tuo parente Un tuo figlio Marito Maria Moglie O per un amico Affinché Riceva la guarigione Perché hai saputo Che è malato Amen Ma io ti inviterei A fare questa preghiera Che non solo Sia viva Nella salute Nel corpo Ma riceva La salvezza Nell'anima Per vivere una vita Meravigliosa Del figlio di Dio Perché serve a poco Essere guariti Nel corpo E vivere una vita Lontano dalla grazia E dall'amore di Dio Andiamo avanti Nel testo Egli se ne andò Con lui Per cui Gesù Ha ascoltato Il grido E si è messo Subito A disposizione Di andare a casa Di quest'uomo Ma cosa succede? Tutti conosciamo Questa storia Questo andare Di Gesù A casa di Aero È Ancora Ostacolato Possiamo dire Da una fonda Che lo seguiva Ma una donna Che soffriva Da questo flusso Di sangue Da dodici anni Che aveva speso Dice questa parola Tutti i suoi beni Ascoltate Senza alcun Giovamento Ma piuttosto Peggiorando Forse Tu che stai Ascoltando Stai continuando A cercare Aiuto Nel mondo Stai continuando A cercare Soluzioni Nelle capacità Degli uomini Pensando Che forse Spendere Tanti soldi Per certe cose Perché magari Conosci degli uomini Capaci Siano la soluzione Per te Piuttosto Stai vivendo Quello che stava Vivendo questa donna Ti stai accorgendo Che passa il tempo Che invece Dile cose Migliori Non stanno Peggiorando Stai continuando Ad affidare I tuoi problemi Ancora A persone A situazioni Sbagliate Ti stai affidando A cose A soluzioni Sbagliate E le cose Invece di migliorare Stanno peggiorando Perché Perché Come questa donna Forse Non conoscevi ancora Colui Che poteva Cambiare La tua storia E la tua vita In un istante E questa mattina Noi te lo presentiamo Il suo nome È Gesù E come questa donna Seppe che il figlio di Dio Che compiva miracoli Sentiva che la gente Veniva guarita Lei non fece altro Che accostarsi Tra la folla E io immagino E io immagino questa donna Senza alcuna vergogna Che ancora La sua vita Le sue vesti Erano sporche Di sangue Perché aveva questo Flusso continuo Di sangue Che perdeva Lei non si vergognò Di quello che gli altri Avrebbero pensato O quanto L'avrebbero escluso Lo avrebbero messa Da parte Lei pensa solo Di andare verso Gesù Perché crede Che la soluzione Per la sua vita Possa arrivare E lei dice Io non voglio Né che lui mi veda Né che lui mi dica qualcosa Né che io Faccio una preghiera lunga Ma solo se tocco Il lembo Della sua veste Io sarò guarita Alleluia Che straordinario Atteggiamento Di fede Quante volte Ancora limitiamo Quello che Dio Può fare Semplicemente Con un tocco Di fede Un tocco Ancora che ci permette Di credere Nella potenza Di Dio E che Non solo Ci libera Da una prigione Di soldi spesi Medici Dopo aver speso Tanti soldi Un'intera vita Messa da parte Nella società Che era diventata Nulla Per molte persone Per coloro Che la circondavano Ma quel giorno Forse lei Neanche immaginava Che avrebbe incontrato Colui che avrebbe Cambiato la sua esistenza E vedete che Gesù Usa il termine Va Se la tua fede Ti ha salvata Perché Forse non troviamo Guarità Perché È una salvezza Completa Una guarigione Completa Che ha a che vedere Non solo col corpo Ma una guarigione Che ha a che vedere Con l'anima Con il di dentro Di una vita Che da quel momento C'è la possibilità Che venga vissuta Nella grazia Nell'amore Nel favore di Dio E mano a mano Con il Signore E vedete I discepoli Sentono Gesù Che dice Qualcuno mi ha toccato E i discepoli Dicono giustamente Potremmo dire Signore qua c'è una folla Che ti stringe E tu dici Chi mi ha toccato Sì Dice il Signore Perché una potenza È uscita Da me Questo cosa ci fa comprendere Che la differenza Non è il tocco Ma è come ci approcciamo Per il Signore Perché la folla Era una folla curiosa Era una folla Che spesse volte Voleva solo avere Voleva solo essere sfamata Ricevere cibo E acqua Era una folla Che forse aveva Come quei lebrosi Un giorno Solo voglia Di essere guariti Nel corpo Ma non di tornare E onorare Dio Tutto il resto Dei suoi giorni E della loro vita Ma tra la folla Tante volte C'è tanta folla Intorno a noi Ma Gesù Non ama le folle Gesù ama i cuori Che si accostano a lui Dove quando lo toccano Lui può sentire Che qualcosa Sta uscendo da lui Perché tra una folla Quella donna Ha toccato Gesù In maniera particolare Gesù lo ha avvertito Perché Gesù sa Quando ti accosta a lui Se lo fai con il cuore O se lo fai solo perché Gli stai cercando Di quello che hai bisogno E allora Quella donna Fu in maniera Gloriosa E miracolosa Guarita Il flusso Si stagnò All'istante Perché questa mattina Se tu credi Che mi stai ascoltando E tocchi Il Signore E compede Io ti dico Per parola di Dio Che la tua vita Ancora La tua situazione Cambierà ora Non domani Non dopo Ora La tua situazione È già cambiata E la tua malattia È già guarita Perché questa È la verità Della parola di Dio Ora In tutto ciò Cari nel Signore Che mi state ascoltando Facciamo un passettino Indietro Jairo Ha chiesto a Gesù Che la figlia Sta per morire E il tempo Sta passando E io mi invito A farvi una domanda Come me la sono posta io Che cosa Si è potuto chiedere Jairo C'è ingiustizia Presso Dio Io ho chiesto a Gesù Di venire da mia figlia Che sta per morire E lui sta spendendo Del tempo Per questa donna Allora Lui sta Preferendo Di guarire Prima questa donna E poi Per mia figlia Può essere troppo tardi Perché allora Perché forse Non ha tempo per me Perché forse Questa donna Ha la priorità A differenza mia Quanti pensieri Potevano affollare La mente di Jairo Cerchiamo di medesimarci Nella vita di quest'uomo E allora Il tempo passa Perché la folla Lo stringe La donna lo ferma Gesù parla con questa donna Tutto questo Passa il tempo E cosa succede? Che quell'uomo Jairo Che è l'esempio Per me e per te Rimane lì Ad aspettare Che Gesù Va a casa sua Perché lui ha piena fiducia Di quello che Gesù Può fare Per sua figlia Ma accade qualcosa Che accade sempre Spesso Nella vita dei cristiani In alcuni momenti Che quando Dopo che Gesù Ha guarito Questa donna Lui si incammina Ancora Verso la casa Di Jairo Ma Improvvisamente Arrivano alcuni Della casa Del capo Della sinagoga Che gli dicono Come abbiamo detto Perché Tu continui Ad importunare Il maestro Tua figlia È morta Ecco La parola Che viene Per scoraggiare Una fede Che fino a quel momento Stava reggendo Una fede Che fino a quel momento Era ferma In quello che Aveva chiesto Sapendo Che Gesù Poteva fare qualcosa Per sua figlia E quando La tua fede È ferma Su Cristo Che la Bibbia Ci dice Che è colui Che crea la fede E la rende perfetta Ed è colui Che ancora Fa sì Che la tua fede Rimane ferma Quando i tuoi occhi I miei occhi Sono su Cristo Allora la tua fede Una fede è una fede Inamovibile Ma cosa succede Che alla parola Al momento Che arriva Discoraggiamento A quella parola Pronunciata Che sulle tue circostanze Che vuole chiamare Morte Io ho notato Una cosa Che voglio condividere Con voi Gesù Ha risposto Direttamente Lui A quello che hanno detto Quegli uomini Che erano venuti Dalla casa Di Aero Lui ha detto Credi Solamente Lui ha incoraggiato Subito La vita di Aero Perché quando La tua fede Vive momenti Che sta forse Venendo meno Sta per crollare Sappi che Gesù lo sa E sarà lui Ad intervenire Al posto tuo E quando Quelle parole Forse avevano Gettato a terra La fede di Aero Non c'è più Niente da fare Tua figlia è morta Gesù viene Questa mattina Viene per me Viene per te Che mi stai ascoltando E dice Tu credi solamente Perché tua figlia Non è morta Ma dorme Ecco Colui che crea La fede E la rende perfetta Colui che è il padrone Della vita Chiama Sulla circostanza E chiama vita Dove c'è morte E ricordiamo Come accade a Lazzaro Quando gli fu detto Che era morto Gesù disse Le stesse parole Non è morto Ma dorme Perché Perché chi crede In Gesù Crede anche Che a Gesù Non appartiene La morte Perché lui L'ha sconfitta Amen E allora Quelle parole Io credo Firmamente Incoraggiarono La vita Di Aero E Gesù Che cosa fece Andò a casa Di Aero Portando con sé Pietro Giacomo E Giovanni E cosa accade Che lui Quando arrivò A casa di Aero E qui arriviamo Al Come dire Al messaggio A cui ho attribuito Questo titolo Chiudi la porta Quando arriva Gesù Trova Un gran Trabusto Gente Che piange E che addirittura Urlava forte Dice questo testo Piangeva E allora A quell'atteggiamento Che Gesù Quella circostanza Che Gesù Trova di fronte A sé La Bibbia dice Che lui è entrato Disse loro Perché fate tanto Chiazzo E piangete La fanciulla Non è morta Ma dorme Questo è un insegnamento Per me E per te Di quando Ti trovi a vivere Momenti Di scoraggiamento Duro Nella tua vita E quando La tua vita Inizia ad essere Circondata Da gran Trabusto Da pianto Dalle persone Che tante volte Ti circondano Che siano anche familiari Perdonatemi che lo dico Ma che in quel momento Non sono Per niente Di incoraggiamento Perché ci sono lacrime Urla Questo non fanno altro Che scoraggiare la fede Per distogliere Lo sguardo da Cristo Io e te Siamo chiamati A chiamare E a parlare Sulle circostanze Perché Gesù Dice Perché urlate E piangete La fanciulla Non è morta Ma dorme Impara a parlare Alle circostanze Impara A parlare La parola di Dio Su ciò che stai vivendo E a rinunciare A tutto ciò Che ti sta circondando Che vuole far scemare La tua fede E cosa dice la Bibbia? Che lui Messili tutti fuori Messili tutti fuori Questa mattina Se tu vuoi realizzare La potenza di Dio La soluzione Al tuo problema E vuoi che la tua fede Che è combattuta Non crolli E non venga meno Chiudi la porta Al troppo chiasso Al rumore Al pianto Alle urla Che non fanno altro Che confondere la tua vita Che portare scoraggiamento Che ancora Far venire meno la tua fede Farla scoraggiare E ti fa distogliere Lo sguardo da colui Cioè Gesù Che crea la fede E la rende perfetta Perché la tua fede Che è un dono Che Dio ha messo Dentro di te Dentro di me Quando è una fede Alimentata Della parola di Dio E basata su Cristo È una fede Che compie Che vede Miracoli Ma tante volte Commettiamo questo errore Vogliamo vedere La gloria di Dio Vogliamo realizzare Il Signore Tra mille Trambusti Tra pianti Tra gente Che urla Tra gente Che parla In maniera negativa Nella nostra vita E attorno di noi Questa mattina La parola risuona Il Signore Ti dice Mi dice Ci dice Chiudi la porta Tieni fuori Dalla tua vita Tutte quelle persone E tutte quelle cose Che contrastano La tua fede Per non lasciarti Realizzare Quello che Dio Sta per fare Perché da lì a poco Gesù sta per fare Qualcosa di straordinario E lì chiude Nella stanza Solo i suoi I genitori Della bambina E i tre Che aveva portato con sé Prende la mano Di quella fanciulla Ecco che Gesù Parla Alle circostanze Quello che dobbiamo fare Io e te Pronunciare la parola Che è potenza di Dio Che chiama vita Che distrugge la morte Lui dice a quella fanciulla Ta lì ta kumi Io ti dico Alzati È un comando Non è una richiesta Tante volte Commettiamo un errore Cose che dobbiamo Comandare Nel nome di Gesù Siamo ancora lì A chiederle Ma quando il Signore Ti dice Che ancora tu devi Ordinare Devi chiamare le cose Devi ubbidire All'esempio Che me stesso Ti ha dato Lui chiama Quella fanciulla Ad alzarsi Gesù Richiama La tua circostanza A rientrare Nell'ordine Gesù Chiama La tua malattia A seccarsi Perché lui è lì Dio dei miracoli Gesù Chiama Ancora Vittoria Sulla tua circostanza Perché è lui Che comanda Perché è la parola Che crea Amen La parola crea Fin dal principio Dio ha creato il mondo Con la parola Dio ha disteso i cieli Con la parola La chiesa è chiamata Attraverso la fede A chiamare le cose Che non sono ad essere E allora Cosa accade? Un miracolo glorioso Questa bambina Era morta Non c'era più niente da fare Tu forse ti stai dicendo Sì Non ho più Non ho più soluzioni Ormai la situazione Che ha preso la mia vita È troppo complicata Ormai la malattia È troppo degenerata È troppo inostato avanzato Gesù dice Questa mattina Poni fede A quello che Ti sto dicendo Questa panciulla Non è morta Ma dorme Amen Perché? Perché Gesù Ancora chiama vita Sulla tua vita In questo momento Credilo Che il miracolo Sta per avvenire Se tu poni fede Alle parole Di Gesù E quella bambina Si alzò All'istante E si mise A camminare E guardate questo dettaglio E poi concludo Si mise a camminare Dopo il miracolo Perché? Perché non solo Dio ti guarisce E ti tira fuori Ma dopo Ti chiama A iniziare a camminare Ad andare a testimoniare A dire agli altri Che c'è un Dio potente Che fa miracoli E forse troverai Sul tuo cammino Nella tua strada Tu che sei un figlio di ti Tu che sei un fratello Una sorella Troverai Chi ha bisogno Di sostegno E quando andrai Troverai Trabusto Pianto E noi vogliamo fare Tante volte I supereroi Mettiamo fuori la porta Tutti quelli Che sono di sconforto Tutti quelli Che urlano Che scoraggiano la fede Che non aiutano A quella persona A realizzare la fede Questa mattina Rinnovo E concludo Questa parola Rimanga impressa Nella tua mente Nel cuore Ascoltami Chiudi La porta Davanti a te A tutte Quelle persone Alle cose Che ti stanno E che continuano Ad impedire Alla tua vita Di realizzare Le promesse Di Cristo Attraverso La fede Nel figlio di Dio Che è benedetto In eterno Dio Vi benedica Alleluia Gloria In nome del Signore Grazie Grazie Pastore Per questo approfondimento La nostra fede Ha una Ha un corpo Ha una densità E deve essere chiamata Tale Rafforzata E vissuta Con un'identità Chiara Alla luce Dalla parola Di Dio Questa mattina Il Signore Attraverso Il suo santo spirito Vuole proprio Dare corpo Alla nostra fede Vuole alimentarla Ed è proprio Il processo Tecnico Se così Possiamo chiamarlo Che Dio Ha nascosto Dietro l'ascolto Della parola L'alimentazione Della fede La fede Che i nostri cari amici In questo momento Stanno applicando A quante circostanze Difficili Stanno attraversando E che stanno chiamando Per nome Io vorrei Pastore Avremmo potuto Approfondire L'argomento Della fede Anche grazie Ai messaggi Che ci sono arrivati Ma Sento nel cuore Proprio in virtù Delle tante richieste Di preghiera Di chiederti di pregare Affinché Tanti flussi Vengono bloccati Tante figlie di Jairo Vengono rialzate Vengono portate Alla luce Tante porte In questo giorno Vengano chiuse Decisioni serie Chiare Precise Che portano La nostra determinazione Davanti alla presenza Del Signore Come quel gesto Che Dio Si sta aspettando Proprio per dare il corpo La dimensione Alla nostra fede E proprio in virtù Di quanto Gesù stesso Ci dice In procinto Del racconto E delle descrizioni Del suo ritorno Troverò la fede Sulla terra Noi vogliamo rispondere Amen Ti stiamo aspettando Siamo quella chiesa Che sta aspettando Il tuo ritorno E lo vogliamo fare Proprio con tutta La dimensione Della nostra fede Che non sarà Un problema Transitorio Di questo mondo Di questo momento Della nostra vita A bloccare Ma che sarà Semplicemente Messa nelle mani Di Dio Colui che può fare Grandi cose In questo giorno Vogliamo proprio Pregare affinché Il Signore rafforzi La fede Dei nostri fratelli Che chiedono preghiera In risposta In obbedienza A questo messaggio Che ti ha dato Caro pastore Nino Quindi in questo momento Andiamo in preghiera E affido a te Il momento della Intercessione Prego Alleluia Alleluia A te tutta la gloria Signore Ti ha glorificato Il tuo nome Al di sopra Di ogni altro nome Perché noi crediamo Che nel nome Di Gesù C'è potenza Nel nome di Gesù C'è la soluzione Nel nome di Gesù C'è la vita Signore Questa mattina Noi ti ringraziamo Perché Tu ci hai concetto Grazie di questo Tempo prezioso Ma come veniva Ancora chiesto Quel grido Accorato Di messaggi Che stanno arrivando Di persone Che in questo momento Sono davanti a un cellulare A una tv Chiedendo aiuto Di tanti aero Che stanno gridando E forse hanno pensato Signore Che non c'è più possibilità Perché Perché la voce è arrivata Come arrivò Da quelli della sinagoga Che dissero Non importunare più il Signore Perché tua figlia è morta Il diavolo sta cercando Di portare rassegnazione Nel cuore di questi Tue figli E di queste persone Io questa mattina Nel nome di Gesù Grido il divoratore E dico Signore Che la situazione Non è finita Ma Tu ancora Hai operato Che la fanciulla Non è morta Ma vive La fanciulla Non è morta Ma stava solo Dormendo Perché Signore Perché questa mattina Nel nome di Gesù Vogliamo annullare Ogni circostanza Che ancora Ostacola la fede Noi vogliamo annullare Quelle urla Quel pianto Quelle grida Che non fanno altro Che far scemare la fede Ma questa mattina Io chiedo Che la fede di ognuno Sia sostenuta Da un fuoco potente Che le persone Che in questo momento Stanno ricevendo questa parola Possano avvertire Un fuoco potente Proprio come accadde In quel momento Quando la porta Fiu chiusa Si chiusero Nell'intimità Perché realizzarono Che Gesù Era lì Il figlio di Dio Questo momento Padre io ti prego Nel nome di Gesù Che queste richieste Siano esaudite Nel nome di Gesù Io chiamo vita Dove c'è morte Io chiamo guarigione Dove c'è malattia Io chiamo soluzione Dove non c'è più niente da fare Io chiamo libertà Dove c'è oppressione Io chiamo vittoria Sulle opere delle tenebre Io chiamo ancora Guarigione Vita Spirituale Dove c'è oppressione Nei mariti Nelle mogli Io chiamo libertà Dove ci sono catene di droga Alcol Sui figli Sui mariti Nel nome di Gesù Signore In questo momento Che il tuo spirito Riempia Oh ecco E questa fede Sia una fede Stabile Questa mattina Che quelle parole Risuonino Credi solamente Credi solamente Non dubitare Chiudi la porta Perché il Signore Lo ha fatto Dio ha operato E tu dirai Insieme a me Grazie Signore E nel nome di Gesù Veniamo a te Il benedetto in eterno Amen Amen Alleluia Gloria In nome del Signore Amen Grazie Pastore Nino Grazie per questa Diretta passata insieme Alla presenza del Signore E come detto proprio Prima di lanciarti La parola Per la meditazione Vorrei molto Brevemente Chiederti di presentarci Precisamente Gli orari di culto E l'indirizzo Della chiesa Per quanti Stanno seguendo E magari sono proprio Di quelle zone Della parte Della provincia nord di Napoli Melito Mi ricordo Ecco Se puoi Se puoi darci Qualche indicazione in più In modo che I nostri amici Possano Anche venirvi a trovare Ecco Presentarsi di persona Perché no Lì E essere Chiedere aiuto Direttamente A voi di persona Per essere aiutati In un'esperienza personale Prego Amen Allora Siamo siti In Melito di Napoli Come veniva detto In via San Vito 35 I nostri servizi Sono il lunedì Alle 19.30 Il mercoledì Alle 19.30 E la domenica Alle 19 E come anticipavo Questo invece Riguarda i giovani Il venerdì Alle ore 20 Siamo qui Con i giovani Abbiamo anche Impegnato il martedì Con attività Che riguardano In alternanza Sia solo uomini Sia solo donne E sia invece Le coppie Marito e moglie E siamo qui Ad aspettarvi Con amore Dedicandovi Il nostro tempo Ascoltandovi Vi aspettiamo Con gioia E grazie Anche Michele A te A parole di vita Per questa opportunità Che fa in modo Che come dicevi tu Tante persone Forse non sono ancora A conoscenza Della realtà E questa mattina Possono venire A conoscenza Che c'è un luogo C'è una luce Che il Signore Ha acceso In San Vito Grazie per questo tempo Passato insieme Vi diamo appuntamento A Dio piacendo A domani Con una nuova Diretta di review Sempre qui Su vostro canale cristiano Intanto ricordate Che la nostra giornata Qui a parole di vita Continua Con tantissime altre dirette Vi consigliamo Di restare connessi Alla vostra televisione cristiana Perché il Signore Sta preparando Nei messaggi Per la tua edificazione Affinché tu possa Ancora una volta Gridare Grazie Signore Perché avevo bisogno Di questo messaggio Grazie Padre Perché mi hai dato Questa risposta Insomma Se noi non ci connettiamo Al Signore Eh bene Il Signore ci risponde Ma noi non lo ascoltiamo Bene Resta connesso A parole di vita Perché il Signore Desidera profondamente Parlare del tuo cuore E Dio ti benedica A domani Pace e Shalom A TIA A TIA A TIA Grazie a tutti.